Professor Livi, Presidente del Congresso, il 18esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana Torino-Laringoiatra, Libri di Professionisti, a Siena. Come Presidente del Congresso ORL, praticamente è il 18esimo congresso dove, come tutti sapete, a 18 anni si raggiunge la maggior età. Io ho avuto la fortuna nella mia professione di fare due congressi e tutti i due congressi erano per il 18esimo anno. Il primo congresso che ho fatto per il 18esimo anno è diventato un grande congresso di impegno nazionale ed internazionale. E mi auguro che anche questo secondo congresso possa portare fortuna con la mia presidenza affinché la società possa espandersi. Nei prossimi anni. Intanto, professore, la gioia della città, dell'università che ospita il congresso, grazie al suo lavoro e di aver riportato a Siena un momento così importante per la riflessione all'interno di questa tipologia di professione medica. Fra le tante novità di quest'anno c'è una grande attenzione ai giovani. Ce la racconta? Dunque, effettivamente io devo ringraziare pubblicamente il magnifico rettore il quale una volta che ho detto vorrei fare il congresso a Siena nell'Aula Magna che mi ha visto studente, che mi ha visto laureando. Lui, pur sapendo che io sarei andato in quiescenza, mi ha dato tutta l'opportunità ma la cosa importante è che ha messo a disposizione tutto il palazzo elettorale gratuitamente. Questa è una cosa che, secondo me, fa ben sperare soprattutto per la città perché si è visto anche proprio grazie all'impulso che lui ha dato proprio che la città comincia a riprendere quel vigore di città universitaria che io, quando ho parlato con lui, ho paragonato forse ancora meglio di Oxford. L'Oxford italiana, diciamo. Ci vuole anticipare alcune del tematico, dei fili conduttori su cui lavorerete anche i prossimi giorni ovviamente in maniera divulgativa per un pubblico non tecnico? Questo congresso, se lei vede il titolo, è autorino della ringogliatria pratica. Quindi il mio impegno è stato quello di selezionare argomenti di grande interesse per tutti coloro che si affacciano a questa nobile professione. Lo dimostra il fatto che all'interno del congresso ci sarà una sessione, giovani specialisti specializzanti under 35, per i quali noi come società abbiamo proprio in storia tre premi. La giornata, la sessione, avrà un comitato scientifico di persone grandi come me, che però in modo anonimo daranno un giudizio finale delle 15 lezioni che faranno questi giovani studenti. E quindi noi vedremo di premiare veramente i migliori, ma proprio con il vero concetto di meritocrazia. Ultimamente il parlare di meritocrazia è diventato un po' per pienarsi la bocca, poi nei fatti effettivamente. Chiudiamo con una battuta personale. Lei è un professionista conosciutissimo a livello nazionale, ha una grande carriera. Un evento come questo però ha emozionato per l'apertura di stasera? Siamo sempre emozionati quando lavoriamo un anno e poi siamo in dubbio se riuscirà o non riuscirà. Le presenze sono veramente state importantissime. Abbiamo avuto un'affluenza e un richiamo nazionale e quindi anche tutti i cultori della materia, degli argomenti, sono tutti professionisti che sanno quello che fanno. Quindi su quelli che oggi ho invitato sono persone che veramente quello che dicono lo fanno. A differenza di in altri casi ci sono, uno basta parlare, basta dire, basta fare invece, chi sa fare l'orecchio, chirurgia dell'orecchio, parla di orecchio, chi sa fare chirurgia dell'aringe, parla di l'aringe. Ma quello che però è importante per questo congresso è che noi l'abbiamo inaugurato dicendo dovete dirci tutte le patologie che possono essere fatte in ambulatorio, patologie chirurgiche senza avere la difficoltà di posti letto. Questo io penso che vada anche a vantaggio dell'azienda ospedaliere che negli ultimi anni soprattutto hanno diminuito drasticamente i ricoveri. E quindi noi con questo congresso abbiamo dato anche una linea guida di quello che si può fare in anestesia, in anestesia locale, in un ambulatorio che abbia le credenziali di un ambulatorio per poter mettere il paziente in sicurezza, per poter fare l'intervento e il paziente poter tornare a casa, logicamente accompagnato, perché la anestesia, anche se è locale, lascia sempre un po' di piccoli stragi accompagnato e dopo un'ora di intervento può tornare a casa. Proprio oggi pomeriggio abbiamo parlato di questo argomento. L'altra cosa che è stata molto bella, almeno rivoluzionaria, diciamo, nei classici congressi tradizionali è che per la prima volta la Marina Militare, con il suo corpo sanitario, è presente al congresso e proprio ha parlato di come la Marina Militare, sia nel civile che nel militare, interviene in quei casi di disastro, vedi terremoti, vedi maremoti, e soprattutto anche la Marina Militare per poter portare il contributo a livello internazionale, a livello mondiale e la dimostrazione che la nave Kavur, che abbiamo visto ora nel video che l'ammiraglio Barberato ci ha presentato, proprio ha una testimonianza di come la nazione, Italia, soprattutto nei paesi disagiati, porta il messaggio della salute facendo sempre le cose concrete. È un evento molto importante perché oltre a valorizzare la via francigena, mette in connessione questi territori che hanno delle bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche, molto rilevanti e quindi può essere un veicolo anche di promozione turistica, indipendentemente dal cammino, quindi indipendentemente dalla francigena. Però la francigena per noi è un veicolo importante di conoscenza del territorio e di questa realtà comunale. Come abbiamo sentito dei numeri, oltre mille partecipanti, di cui oltre 600 fuori regione, quindi che vengono da tutte le parti d'Italia, ci sono anche degli stranieri, ho visto, e questo è ovviamente un motivo in più per puntarci per promuovere turisticamente il territorio. Ora, Siena non ha bisogno di queste leve di promozione, però tutti i territori che sono in questo percorso ovviamente ne possono beneficiare in modo significativo. Acquapendente, ad esempio, ha al suo interno la copia più antica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che è poco conosciuta. Questo, anche attraverso questa manifestazione, si può contribuire alla conoscenza di questa particolarità che ha acquapendente, anche nominata come la Gerusalemme d'Europa, e quindi è importante che si punti anche attraverso questa manifestazione a incrementarne il turismo. Quest'anno abbiamo sfondato una quota che ce l'avamo posto come obiettivo, però non eravamo così sicuri di poterla centrare. I mille partecipanti, anzi, addirittura stanno arrivando ancora diverse iscrizioni. Per noi è un fatto particolarmente importante, soprattutto perché almeno 600 degli iscritti attuali dormiranno a Siena perché sono persone che provengono da fuori regione. Dormiranno a Siena loro, dormiranno a Siena i loro familiari, quindi sarà l'occasione di unire a un evento, definiamolo sportivo, come la Francigena Ultramarathon, perché non è un evento competitivo, è una bellissima camminata che quest'anno si può sviluppare su cinque percorsi diversi, direi adatti un po' a tutti. Quindi il primo percorso in particolare da Siena a Bonconvento è un percorso alla portata di tutti. e credo che la collaborazione piena che c'è stata con tutti i comuni del percorso sia stata un fatto estremamente positivo, perché garantire dei ristori e mettere in sicurezza il percorso per un così alto numero di partecipanti non è uno scherzo. Credo che anche questo rientri nell'ottica di valorizzare un rapporto con il territorio. Questo è un aspetto al quale teniamo molto, soltanto promuovendoci insieme e aiutando alcuni comuni, magari più piccoli, ad essere valorizzati lungo un percorso così importante come è la via Francigena, credo che sia un aspetto particolarmente importante. Soprattutto avvalendoci anche della collaborazione di associazioni che da anni sono presenti, conoscono questi percorsi, ci possono segnalare le manutenzioni necessarie alle quali, grazie ai finanziamenti che ci arrivano dalla regione toscana, possiamo fare fronte. Sono Pasquale Bimonte, sono un fotoamatore. Quest'estate ho avuto la fortuna di incontrare l'associazione Autismo Siena con la quale abbiamo progettato un percorso per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'autismo. Questo è solo l'inizio del progetto, sono 21 immagini che parlano dei ragazzi del Piccolo Principe, l'associazione che vive qui a Siena a volte basse. Ieri sera c'è stata l'inaugurazione. Spero che queste immagini riescano a trasmettere l'emozione necessaria per far sì che questo problema venga un po' più trattato in maniera consapevole, perché effettivamente a partire da me questo è un argomento di cui si conosce poco. Io conoscevo dell'autismo per via del grande vecchio film degli anni 70, Rain Man, ma poi effettivamente di Rain Man non c'è nulla nella realtà della sindrome dello spettro autistico. Sono ragazzi che vanno aiutati e soprattutto questa è una raccolta fondi per far sì che questa associazione abbia un po' di fondi per poter acquistare quegli strumenti necessari che quotidianamente servono per accudire questi ragazzi, per seguirli, per farli crescere e per farli migliorare, perché l'autismo sia una malattia che non è incurabile ma se diagnosticata in tempo e se seguita in maniera efficace non si guarisce ma si può migliorare. La Toscana ospita per la terza volta didacta la più grande manifestazione sulla scuola e la formazione presentata nella sede della Presidenza della Regione a Firenze. Al convegno di apertura il 9 ottobre alla Fortezza d'Abbasso è atteso il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e poi fino all'11 ottobre 82 workshop, 67 seminari e 10 convegni rivolti a docenti, dirigenti scolastici e imprenditori, due padiglioni della Regione dove le scuole potranno mettere in mostra le proprie attività e le imprese didattiche. Noi avremmo i nostri studenti accompagnati dagli insegnanti e si fa vedere la didattica innovativa perché la didattica innovativa c'è già in molte scuole, bisogna dimostrare che questa scuola può crescere ancora, si può andare avanti e soprattutto si può presentare alle altre scuole che ancora non l'hanno applicata. Novità dell'edizione 2019 di Didacta che con gli oltre 23.000 partecipanti e il più 23% di biglietti venduti nel 2018 si conferma un evento centrale per il mondo della scuola è la scuola del futuro su un padiglione di mille metri quadri, due ambienti costruiti con una nuova concezione architettonica e un nuovo impianto metodologico. Non c'è l'aula, ci sono una serie di spazi organizzati e l'apprendimento è progettato come un percorso, quindi gli spazi, gli arredi, le tecnologie e le metodologie sono progettate insieme. Molti seminari e gli eventi che vedono la regione toscana protagonista, visibili sul sito eventi.fieradidacta.it slash regionetoscana, la regione ha collaborato con l'ufficio scolastico regionale che propone tra gli altri tre eventi sulla cultura musicale nelle scuole, sulla figura di Aldo Moro e sull'ecosostenibilità.